12. Il racconto di Murasaki Shikibu e Katsushika Oei Il mio nome, Murasaki Shikibu, significa ministro delle cerimonie violetto. Fui una donna di alto rango del potente clan Fujiwara, la famiglia di shogun che di fatto governava la società giapponese della fine del secolo X. Le dame di corte all'epoca sceglievano un colore con cui sostituivano il proprio nome e poi indossavano solo kimono di quel colore. Usare il proprio nome era considerato volgare, molto più elegante chiamarsi attraverso una metafora cromatica che ci rappresentasse e avere l'abilità di abbigliarsi e acconciarsi tutta la vita usando sempre e solo diverse tonalità del colore scelto. A quell'epoca tutto era metafora, si viveva per la bellezza estetica, le virtù più apprezzate erano la ricerca della bellezza e dell'amore, ma la corte, pur raffinata intellettualmente, era decadente e frivola, dedita al piacere e all'estetismo e ai liberi costumi amorosi. E il culto della bellezza divenne morboso, tanto da far ammalare la società. Io rappresentai una eccezione, come la nostra venerabile sorella Madame de la Fayette e le preziose che alla corte francese cercarono di rispondere con la cultura al libertinaggio e con la serietà morale alla volgarità dei costumi. Mi sposai giovane a un uomo vecchio che morì presto, lasciandomi vedova con una figlia piccola. Il mio matrimonio, seppur breve, fu tuttavia felice, vissi una vita casta e rimasi fedele alla memoria di colui che era stato il mio buon compagno. Il mio nome non fu mai insozzato da scandali. Diveni simbolo delle migliori virtù femminili in una società dissoluta. Quando rimasi sola, come la venerabile Christine de Pisan, diveni ansiosa a causa della mia instabile posizione di vedova senza protezione e come lei mi gettai nell'attività letteraria per rendermi indipendente, assicurando così la mia posizione sociale, come lei vogli ritirarmi in monastero. E proprio come accade a lei, a Christine de Pisan, la mia crescente reputazione, ottenuta grazie alla divulgazione dei primi capitoli del mio romanzo Genji Monogatari, mi fruttò un posto alla corte imperiale. Diveni assistente culturale dell'imperatrice Shoshi, seconda moglie dell'imperatore e figlia di Fujiwara Michinaga, il capo del clan al quale appartenevo. Teshi e Shoshi, le due mogli dell'imperatore, erano figlie di due fratelli Fujiwara. Questo creò una spietata rivalità tra le corti delle due donne, rivalità che si estese anche al campo letterario. Io ebbi il compito di promuovere la corte di Shoshi con il mio incarico di scrittrice e assistente culturale. Diveni una specie di addetta alle pubbliche relazioni. A quell'epoca la scrittura, considerata colta, si vergava in caratteri cinesi ed era permessa solo agli uomini, mentre noi scrivevamo usando uno speciale sillabario per le donne in lingua giapponese. Ma io, intelligente e avida di conoscenza, avevo già da bambina compreso e memorizzato anche i caratteri cinesi, semplicemente stando accanto a mio fratello mentre lui studiava, tanto che mio padre soleva lamentare la sventura che io non fossi nata maschio poiché ero più intelligente e abile di suo figlio. La sorella Marian, George Eliot, ha descritto questo processo molto frequente quando alle bambine non era permesso studiare nel suo romanzo Il mulino sulla flossa in cui la piccola Maggie imparava ascoltando le lezioni del suo ottuso fratello. A noi aristocratiche del periodo Heian tuttavia non era preclusa l'istruzione, solo l'apprendimento dei caratteri cinesi considerati sacri e quindi riservati agli uomini. Intorno all'anno 1000 d.C. l'arte e la letteratura del Giappone furono totalmente in mano alle donne che, come le sorelle cinesi, scrivevano romanzi usando i caratteri della scrittura femminina. La nostra scrittura però, a differenza del Nushu, la scrittura segreta delle donne cinesi, la nostra non era segreta. È stato detto che fui io l'autrice del primo romanzo psicologico della storia umana. Raccontai i dispetti a cui veniva sottoposta Kiritsubo, giovane concubina dell'imperatore e madre del principe Genji. Dalle altre mogli e concubine gelose e perfino dalle schiave che venivano da loro pagate per farle del male. La sofferenza di Kiritsubo a causa di questa situazione che la portò alla morte quando il piccolo Genji aveva appena tre anni fu la stessa che la mia speculare sorella Madame de Lafayette attribuì alla principessa di Cleve nel suo romanzo omonimo. Anche lei descrisse, sette secoli dopo di me, il tormento dell'anima causato alla protagonista dalla pressione psicologica anche se per cause diverse. Difficilmente il mondo degli uomini potrà comprendere la pena di una donna nel vedere forzata la sua lealtà. Nel romanzo inserì alcune informazioni sulla vita di corte di cui volevo denunciare l'assurdità, per esempio la barbara usanza che durante un parto nella famiglia reale, centinaia di monaci separati dalla partoriente solo da una sottile parete di riso, pregassero e intonassero mantra per tutta la durata del travaglio. Il loro tono lamentoso e continuo, unito all'odore delle erbe speziate per allontanare i demoni e alla presenza nella stanza di una dozzina di ancelle, disturbavano profondamente la partoriente che, privata della sua riservatezza, era costretta a controllarsi per rispettare il decoro, in un momento in cui invece ogni donna dovrebbe essere libera di manifestare le sue emozioni e anche il suo dolore fisico. Così nel romanzo feci che la dama Aoi, moglie del principe Genji, mentre stava partorendo, chiedesse di interrompere gli esorcismi e le preghiere. E ora vi svelo il grande mistero su cui tutta la corte si interrogò, perché avevo scritto il Genji Monogatari. La verità è che volevo tributare un omaggio alla dea madre, Amaterasu Omikami, che io non avevo mai smesso di onorare, nonostante l'avvento del buddismo patriarcale. Il principe Genji cerca disperatamente in ogni donna la mamma morta quando era piccolo e infine si innamora perdutamente della giovane moglie del re suo padre per la sua incredibile somiglianza con la mamma. Era la mia metafora del desiderio di un ritorno alla religione dell'antica dea Amaterasu, la nostra grande madre. Il principe Genji è anche Hikaru, che significa risplendente, dunque legato ad Amaterasu che è una dea solare. La concubina di Genji, che per gelosia ne assassina la moglie, si ritira poi nel tempio della dea Amaterasu, Aize-shi. Con questo volevo dare voce alla gelosia e alla pena della dea per essere stata da noi abbandonata a causa della nuova religione. Amaterasu, Omikami, la grande luce splendente madre degli dei, rappresentata da uno specchio poiché è così luminosa e brillante da non poter essere guardata a occhio nudo, è la grande madre del Giappone. Lei ci insegnò a coltivare il riso e il frumento, a ricavare la seta dal bozzolo del baco e a tesserla per creare i kimono. Amaterasu vive in un'enorme sala colma di telai dove tesse stoffe meravigliose, i colori delle sete fonte di vita. Sappiate, sorelle, che nei secoli II e I avanti Cristo il Giappone era una federazione di comunità, molte delle quali governate da donne, che detenevano un solido e indiscusso potere. Il buddismo fu introdotto solo nel trecento dopo Cristo. Fino a quel momento la mia gente praticava solo Shinto, il culto di Amaterasu, la dea tessitrice. Trama e ordito. Inspirare ed espirare i movimenti della vita. Tessitura è l'arte del creare. All'incrocio tra trama e ordito, la dea tesse la creazione con gesti di armonia. Il suo santuario più importante, a Isechi, sull'isola di Onshu, viene abbattuto e ricostruito ogni venti anni. Lì vive la dea. Quando la religione divenne patriarcale, gli dei iniziarono ad essere considerati come manifestazioni del Buddha e Amaterasu smise di essere omikami e si rifugiò in una grotta. Vissi una vita discreta, dedita al servizio dell'imperatrice, dell'arte e della dea. Non partecipavo a banchetti o parate. Mi ritiravo volentieri nella mia abitazione dopo aver espletato i miei compiti. E lì, seduta sul tatami davanti al tavolino con la pergamena bianca davanti a me, guardavo la dolce sera della mia amata isola scendere sulle spalle del mondo e tingerlo di rosa. Inspiravo profondamente e scrivevo i versi che il mio cuore cantava, ispirato dalla dea. E infine, dopo aver servito tanti anni l'imperatrice, anche io, come le mie protagoniste, mi ritirai in monastero poiché la vita di corte non mi corrispondeva più e la sua fatuità mi pesava. Shikibu, la donna viola, tacque e con grazia sorseggiò un po' di tè ormai freddo. Poi, tossicchiando discretamente, quasi a ricordarci la sua presenza, spinse avanti la sua compagna che si rassegnò con reluttanza a prendere la parola. Il mio nome fu Oei, cominciò con voce bassa e lenta. Nacqui otto secoli dopo Shikibu. Mio padre, il grande pittore Okusai, mi trasmise il grande amore per i pennelli. Anche io, come te, sorella Nannerl Mozart, ero talentuosa e brillante, ma dipinsi quasi tutto a nome di mio padre e lasciai poche opere con la mia firma. Anche io, come te, temevo gli impermaliti silenzi di mio padre se non gli ubbidivo all'istante. Io ero figlia della sua seconda moglie. Quando venne il tempo, mi sposai con un mercante, ma la vita da moglie non era per me. Disprezzavo i compiti femminili e la cura della casa. Odiavo la noia della vita domestica. Non riuscivo a dipingere. Non trovavo ispirazione. Mi mancava la disordinata genialità artistica di mio padre, la sua risata caustica e la sua muta approvazione. Infatti, quasi subito tornai a vivere con lui. Già ero la sua aiutante. Terminavo i suoi dipinti quando era troppo stanco e non riusciva a rispettare le consegne. Nonostante fosse egoista, freddo e disordinato, rimasi con mio padre nella sua casa e lo accudì fino alla fine della sua vita. Mi presi anche cura della mia sorellina cieca, che sarebbe altrimenti stata condannata poiché chi non era autosufficiente difficilmente aveva vita lunga. Quasi mai le donne riescono a sottrarsi dall'addestramento a servire. Tranne poche, coloro che hanno voluto diventare artisti in ogni tempo hanno dovuto farlo ricavandosi uno spazio tra le faccende di casa, le gravidanze e l'accudimento della famiglia. Per questo con mio padre stavo bene, poiché mi vennero risparmiate gravidanze e servizi domestici. A lui non interessava la pulizia e nemmeno il cibo. Vivevamo per l'arte. Dipingevamo scene di vita quotidiana e grazie al nostro lavoro l'Occidente conobbe il Giappone. Le commesse erano molte e io iniziai a produrre anche lavori miei, che firmavo col mio nome, Katsushika Oei, poiché venivano richiesti specificamente a me, ma soprattutto aiutavo mio padre. Disegnavo i dettagli o coloravo i suoi dipinti come tante sorelle artiste che hanno aiutato i loro padri pittori senza ricavarne alcun riconoscimento. Artemisia Gentileschi, Giulia Lama e le altre. Nonostante la fama di mio padre, tuttavia, io non fui semplicemente una sua copia. Apportai all'arte pittorica innovazioni mai esplorate prima, nemmeno da lui. Inventai gli effetti notturni, dipingendo lanterne che dall'interno degli edifici illuminavano una metà della scena. I miei cieli notturni erano ancora più realistici, poiché dipingevo le stelle con puntini rossi e blu, anziché con il tradizionale bianco. Fui la prima a cambiare la prospettiva dei ritratti, inquadrando i soggetti di spalle, mostrando il loro volto in uno specchio, in omaggio all'amata dea Amaterasu, che veniva rappresentata da uno specchio, poiché era impossibile sostenere il suo fulgore guardandola direttamente. La dea era sempre presente nel mio cuore e ispirava i miei gesti quotidiani. Altre volte i visi non si vedevano affatto. Questo fece davvero scalpore, non si erano mai viste prima figure dipinte di schiena. Lavorai moltissimo, ebbi numerosi allievi. Nonostante la mia condizione di donna rendesse difficile far riconoscere il mio lavoro come arte e non semplice artigianato, io divenni pittrice professionista. Quando mio padre morì, mi isolai ancor più dal mondo esterno, e a poco a poco interruppi i rapporti anche con gli allievi, mi resi invisibile. Continuai a dipingere, ma nell'oscurità, come la dea nascosta nella grotta, e feci perdere le mie tracce finché il mio talento fu dimenticato. Quasi settantenne lasciai il corpo e solo poche tele firmate. Di me si perse ogni traccia finché, alla fine del 1900, la sorella Inakusu Jura, affascinata dalla mia storia, creò un manga per raccontarla. Un fumetto che per la prima volta nella nostra storia aveva come protagonista una donna. Così, dopo più di un secolo, la mia vita è tornata alla luce. Alcune di noi vengono talmente risucchiate dalla insaziabile fame dei padri da perdere le forze quando viene meno la causa della loro lotta quotidiana per la sopravvivenza. Ma ora sento che in questo cerchio la forza delle donne è tanta e la voglio assorbire fino a colmarmene completamente. La forza dell'albero delle antenate che sento crescere dentro di me... Oei lasciò la frase a metà perché sentimmo un'allegra barahonda di voci femminili in arrivo dalla direzione della notte. 13. Il turbine e il commiato Arrivavano altre sorelle, tante altre sorelle, discorrendo e ridendo, venivano verso di noi. Si era fatto buio ma quando furono abbastanza vicine riuscimmo a identificarle. Erano le pittrici che con i loro pennelli, pastelli e scalpelli avevano ritratto le donne e rivendicato la loro emancipazione. Oei si alzò di scatto, per una volta senza rispettare il rigido protocollo di decoro a cui le sorelle nipponiche vengono addestrate fin da bimbe. Gioiosamente andò incontro alle altre artiste le quali la colsero nella loro turbinosa marcia danzante. Tutte insieme vennero verso di noi, quasi trasportate da un vento di gioia e colore. Sofonis Banguissola, che dipinse le sue sorelle sorridenti con piccoli denti di perle. Lavinia Fontana, con le sue minerve nude, a dichiarare l'orrore delle donne per la guerra. Elisabetta Sirani, che coi suoi dipinti pagò i debiti della famiglia e nella sua breve vita insegnò a dipingere anche ad altre fanciulle. Rosalba Carriera, che per prima ritrasse coi pastelli e fu libera e indipendente. E poi le francesi femministe Marie Guillemin Benoit, che per prima riuscì a creare il colore della pelle nera. Adelaide Labille Guillard, che insegnò alle sue giovani allieve il libero pensiero e la sua finta nemica Elisabette Vigée Lebrun, ritrattista della regina Maria Antonietta. Angelica Kaufmann, che ritrasse giovani e spensierate baccanti senza tragedia, con Artemisia Gentile, che più di tutte nella sua Giuditta, che decapita Oloferne, aveva dipinto la sete di giustizia. Dietro di loro, danzando e chiacchierando, venivano le impressioniste. Suzanne Valadon, che ebbe il coraggio di immortalare se stessa anziana. Mary Cassatt e Burt Morisot, che con pennellate morbide come foglie di primavera ritraevano madri e figlie. E le vigorose russe Natalia Gonciarova e Sonia Delonais dalla sfavillante creatività teatrale. La delicata Marie Lorenzen, che dipinse fanciulle di afane per Chanel. Camille Claudel, che scolpì nella disperazione e nella ribellione le sue statue di donne. La piccola Virginia Frances Terrett, che diede stupende immagini alle fiabe. E Dora Carrington, col suo amore proibito, e il suo giardino dell'Eden in camera da letto. Cari Inbergio e Larson, che colorò la sua stessa casa, e le meravigliose surrealiste Frida Kahlo, Leonora Carrington, Remedio Svaro e Dorothea Tanning, che dipinsero la magia e il mistero del sogno. Ci alzammo in piedi per accoglierle, e quando entrarono nel cerchio mescolandosi a noi, tutte ci accostamo alle braci che ancora scaldavano la sabbia. Mentre il vento del deserto cominciava a gonfiare le nostre vesti, ci prendemmo per mano attraverso lo spazio-tempo e cominciamo a girare intorno al fuoco, danzando e correndo insieme per onorare la sorellanza ancora una volta con le parole della sorella Antonella Barina. Noi siamo le donne che saltano a cavallo quando il paese è assediato, quelle che portano portano il pane e distraggono il diavolo al crocicchio. Io mi lavo ad una fontana l'acqua sul collo. Fiere perché siamo la lancia e il nostro stesso scudo. Il padre di mia madre ha detto avete fatto quello che gli uomini non sono riusciti a fare. Il mio cuore si è riempito di orgoglio. Siamo le donne che cavalcano senza sella. Siamo quelle che salvano i vostri paesi. Quelle che domani rinchiuderete nei vostri ginecei. Siamo le donne che nessun muro può imprigionare. Gli spiriti liberi delle stagioni che verranno. Continuiamo a danzare intorno alle braci ululando come lupe dando vita a un vortice che univa la terra al cielo. Poi una dopo l'altra lucenti e sazie. Lentamente iniziamo a rallentare fino ad arrestarci piegate in due a riprender fiato. Eravamo di nuovo integre, piene di tenerezza e orgogliose di noi stesse. Ma è raggiunto adesso sì il tempo di andarcene per restituire al deserto il suo silenzio solitario. Zitta e rapide raccogliemmo le nostre cose. Fu disfatto il campo e gettato un po' d'acqua sulle braci che sibilando si spensero. E come ogni volta nel passato e nel futuro scomparimmo lasciando la muta sabbia dietro di noi. Fine grazie a tutti.